È un lavoro di grande profondità che in poche ore mi ha riportato in connessione con me stesso attraverso un percorso originale che non avevo mai avuto modo di conoscere, di esplorare e soprattutto basato sul respiro, sulla musica e su un viaggio straordinario all'interno di me stessi. Grazie. Grazie. Grazie.